Bene, cari ragazzi e cari ragazze di Quintenne, è sabato sera, anzi ormai è domenica mattina perché è mezzanotte e venti e dopo aver finito l'ultima rielaborazione dei titoli degli elaborati per l'esame di stato conclusivo che vi arriveranno in giornata, ho deciso di fare la lezione di fisica che avremo in serbo da un po' di tempo e cioè introdurre la relatività che abbiamo già visto con il cosiddetto K-Calculus. Mi mostro in camera solo perché volevo farvi vedere il libro di riferimento, è un libro molto interessante e anche piuttosto piccolo, è di Herman Bondi, è un fisico relativista molto importante, si intitola, non si legge bene temo, la relatività e il senso comune. Personalmente è della Zanichelli, l'edizione, è un librettino piccolo, non introduce tutto il formalismo che introdurrò io, ma il formalismo che vedremo insieme è essenzialmente ispirato e dovuto al lavoro di Bondi, il cosiddetto appunto K-Calculus. È un approccio alla relatività piuttosto semplice che ci permetterà di riottenere tutti i risultati che abbiamo già ottenuto per via euristica. Se vi ricordate abbiamo affrontato finora la relatività da un punto di vista storico e da un punto di vista pratico, abbiamo fatto anche un compito. Abbiamo trovato tutti i risultati salienti della cosiddetta cinematica partendo dal cosiddetto orologio luce, cioè questo esperimento ideale che ci permette di vedere come varia il tempo in due sistemi di riferimento inerziali in modo relativo, uno rispetto all'altro. Riotterremo tutti i risultati, quindi la dilatazione dei tempi ma anche la contrazione delle lunghezze e la relatività della simultaneità degli eventi attraverso il K-Calculus. Quindi faccio scomparire la mia faccia e possiamo partire con la lavagna. Allora, l'idea è piuttosto semplice. Immaginiamo, come abbiamo già fatto in queste settimane, immaginiamo di avere un osservatore inerziale e di rappresentarlo in un ipotetico spazio-tempo con una riga verticale. Quindi ricordatevi che mettiamo il tempo in verticale e lo spazio in orizzontale. Ora se immaginiamo un secondo osservatore inquiete rispetto al primo, cosa vuol dire inquiete? Vuol dire che la loro distanza spaziale non varia nel tempo. Questo è un fatto sperimentale che posso osservare da qualunque sistema di riferimento. E quindi posso immaginare che se dal primo osservatore, chiamiamolo 1 e chiamiamo 2 questo osservatore, io faccio andare dei raggi luminosi, quindi immaginatevi che questo sia luce, a intervalli regolari. Siccome i due sistemi sono inquieti uno rispetto all'altro, il tempo di percorrenza della luce da un punto all'altro sarà lo stesso per tutti questi eventi che sto mostrando. E quindi se l'osservatore 1 lancia a intervalli regolari, diciamo a un intervallo T, anzi usiamo pure la lettera minuscola T, l'osservatore 2 vedrà arrivare allo stesso intervallo T. Quindi immaginiamo che questi siano tutti lampi di luce emessi dall'osservatore 1 a intervalli regolari di tempo T, verranno ricevuti a intervalli regolari di tempo T. Quindi i due osservatori sono inquieti. Ma immaginiamo un secondo esempio in cui uno dei due osservatori è ancora inquieto. Chiaramente quello che sto per dire è relativo, posso scegliere l'osservatore 1 ma anche l'osservatore 2. Immaginiamo che l'osservatore 2 invece si muova. Quindi come abbiamo imparato li rappresentiamo con rette che non sono più parallele. Quindi in un certo istante di tempo i due osservatori vedete occupano la stessa posizione spaziale e poi l'osservatore 2 ha come dire una posizione che si allontana dall'osservatore 1. Possiamo dire che l'osservatore 2 si muove a velocità V rispetto all'osservatore 1. Ora è abbastanza evidente che se io come prima emetto dei raggi luminosi a intervalli regolari T, quindi T, T, per esempio T, il primo raggio luminoso parte e viene ricevuto istantaneamente, quindi possiamo immaginare che questi tre eventi siano questi tre, questi raggi luminosi verranno ricevuti a intervalli non più uguali all'intervallo T dell'osservatore 1. Perché chiaramente mentre la luce si muove l'osservatore 2 ha anche che si muove. E quindi se il tempo per l'osservatore 1 tra questo e questa emissione e questa emissione che poi è lo stesso tra questa emissione e questa emissione è T, è chiaro che questi due saranno percepiti dall'osservatore 2 a un tempo diverso da T. E Bondi dice immaginiamo di determinare questo tempo come KT. Ecco perché tutto questo si chiama il cosiddetto K-calculus di Herman Bondi. Quindi l'unica ipotesi che facciamo è che se su un osservatore inerziale in cui siamo in questo momento solidale, quindi inquiete, vengono emessi due raggi luminosi a intervallo T, verranno ricevuti da un secondo osservatore 2 in moto rispetto al primo con un fattore di scala KT. Dove questo fattore K dipende, può dipendere solo da v. Ok? Dalla velocità quindi relativa. Non può dipendere da altre grandezze perché i due osservatori sono entrambi inerziali. Quindi l'unica cosa che li contraddistingue è la velocità relativa. Chiaramente se io vedo tutto dall'osservatore 2 è l'osservatore 1 che si muove con la stessa velocità v. Adesso vi farò vedere che da questa considerazione tutto sommato piuttosto semplice ne deriveremo dei risultati molto molto interessanti. Ok? La prima cosa che possiamo mostrare con questo ideale esperimento di osservatori è il seguente risultato un po' particolare. Immaginiamo di avere tre osservatori. Quindi immaginiamo di avere l'osservatore 1, un osservatore 2 in quiete rispetto a 1. Quindi questi due osservatori sono entrambi inerziali, sono uno fermo rispetto all'altro. Ricordatevi in verticale il tempo e in orizzontale lo spazio. Ok? Questa è la convenzione che useremo per tutti i nostri legami spazio-temporale. Come abbiamo detto prima, se questo osservatore invia dei raggi luminosi, quindi ogni volta che vedete dei raggi tratteggiati questa è luce. e dobbiamo immaginare che lui ne metta diversi, tutti intervalli regolari. Allora supponiamo che appunto questo sia t, questo sia t e chiaramente queste t e queste t. Ora immaginiamo un terzo osservatore che sia in moto sia rispetto a 1 che rispetto a 2. Quindi visualizziamolo come una retta obliqua. Ok? Quindi vedete che questo osservatore si allontana da 1 ma si avvicina a 2. Quindi questo osservatore ha una velocità di allontanamento da 1 e una di avvicinamento a 2. Ora per quanto abbiamo visto prima, se vi ricordate, possiamo dire che questo osservatore vedrà i lampi di luce arrivarli a intervalli k a t. Ok? Ora immaginate che ogni qualvolta l'osservatore, chiamiamolo 3, riceve un lampo di luce da 1 e metta a sua volta un raggio di luce verso 2. Quindi da questo evento qua, immaginiamo che il tempo di reazione sia infinito, quindi appena riceve il raggio di luce ne mette anche lui un altro. Quindi da questo evento qua in realtà partono due raggi di luce, quello originale che arriva da 1 e quello da 3. E chiaramente essendo due raggi di luce identici arriveranno contemporaneamente. Ok? Quindi cosa succede? Che raggi di luce emessi a intervalli k a t dall'osservatore 3 devono arrivare all'osservatore 2 a intervalli t. Cosa vuol dire? Vuol dire che il fattore di conversione dei tempi da qui a qui deve essere tale che k a t viene trasformato in t e quindi sarà un fattore 1 su k. Cioè questo t lo possiamo vedere come 1 su k per k a t. E questo pure, 1 su k per k a t. Vedete che fa t. Quindi questi intervalli vengono trasformati moltiplicandoli per 1 su k. Cosa ci insegna tutto questo? Allora che se k è il fattore in allontanamento, l'osservatore 3 si sta allontanando con una certa velocità v dall'osservatore 1, l'osservatore 3 si sta avvicinando invece all'osservatore 2. E quindi abbiamo appena dedotto allora 1 su k è il fattore in avvicinamento. Cioè gli intervalli di tempo che l'osservatore 3 utilizza per distanziare dei raggi luminosi vengono percepiti dall'osservatore 2 con un fattore 1 su k davanti. Vedete come il ragionamento è estremamente semplice e non coinvolge niente se non alcune considerazioni del tutto, come dire, logiche, tra virgolette. Bene, da questo possiamo già dedurre qualcosa di particolarmente interessante. E cioè il tempo in questo k calculus, vediamo subito se ancora prima di fare qualunque tipo di calcolo il tempo è particolare. immaginiamoci infatti una situazione analoga prima in cui ho un osservatore 1 in quiete, ho un osservatore 2 che si muove in questa direzione e ho un osservatore 3 che si muove nella direzione opposta alla stessa velocità. Quindi 2 e 3 hanno rispetto a 1 la stessa velocità, chiaramente in modulo perché l'osservatore 2 si allontana e l'osservatore 3 si avvicina. ok? Allora supponiamo che l'osservatore 1 e l'osservatore 2 si incontrano in questo evento e sincronizzano gli orologi. E immaginiamo quindi che i loro orologi in questo momento segnino 0. Ok? L'osservatore 2 si muove, si muove, si muove e supponiamo che incontri l'osservatore 3 quando è passata un'ora. Va bene? Allora è chiaro che anche l'osservatore 3 che si muove con la stessa velocità dell'osservatore 2 ma in avvicinamento impiegherà lo stesso tempo per incontrare l'osservatore 1. Quindi il tempo visto dall'osservatore 2 tra questo evento e questo evento è un'ora e il tempo visto dall'osservatore 3 tra questo evento e questo evento è di un'ora. Se vedete una certa somiglianza con il paradosso dei gemelli è perché proprio questa è una versione tra virgolette del paradosso dei gemelli ma senza l'inversione di velocità. Cioè abbiamo tre sistemi di riferimento anziché due in cui uno dei due poi inverte la propria velocità. Ora quello che voglio mostrarvi è che dalla semplice considerazione che abbiamo fatto qua, dalla semplice considerazione che abbiamo fatto qua, quello che succede è che il tempo per l'osservatore 1 tra questi due eventi non è di due ore. Come ci si aspetterebbe in una classica fisica galileiana o newtoniana. Perché non è di due ore? Beh immaginate che l'osservatore 2 emetta due lampi di luce. Il primo lampo viene emesso quando passano uno nella stessa posizione dell'altro e il secondo lampo viene emesso quando si incontra con l'osservatore 3. Siccome questa è un'ora e questo si sta allontanando, questo sarà k volte per 1. Questo intervallo di tempo sarà k volte per 1. Qualunque sia il valore di k, dipenderà da k, abbiamo detto che dipende dalla velocità. Troveremo poi la dipendenza. Ora immaginiamo che anche l'osservatore 3 emetta due lampi di luce. Il primo quando incontra l'osservatore 2, quindi si sovrappone a questo, e il secondo quando incontra l'osservatore 1. Siccome nel suo riferimento il tempo passato è di un'ora, in questo riferimento qua, attenzione, sarà 1 fratto k per 1. Perché è un'ora per il fattore in avvicinamento, vedete che l'osservatore 3 è in avvicinamento all'osservatore 1. Quindi il fattore in avvicinamento è 1 per k, 1 su k. Quindi in totale per l'osservatore 1 passa, tra il momento in cui 2 li passa davanti e il momento in cui 3 li passa davanti, un tempo pari a k più 1 su k. Ok? E quindi possiamo anche scriverlo k quadro più 1 fratto k. Perfetto. A questo punto ci si può chiedere quanto sarà questo tempo. Beh, se il tutto fosse, come direi, in una prospettiva newtoniana, mi dovevo aspettare che questo tempo sia di 2 ore. E quindi potrei chiedermi k quadro più 1 fratto k, quando è che è uguale a 2? Voi vedete che questo diventa k quadro più 1 uguale a 2k, cioè k quadro meno 2k più 1 uguale a 0 e c'è k meno 1 al quadrato uguale a 0 e c'è k uguale a 1. Cioè l'unica possibilità che questo tempo sia di 2 ore è che k sia uguale a 1. Ma k uguale a 1 lo abbiamo soltanto per osservatori inquieti uno rispetto all'altro. Abbiamo visto che quando l'osservatore si muove rispetto all'osservatore 1 non possono misurare gli stessi tempi. Ok? E siccome non abbiamo specificato nessuna velocità qua dei due osservatori 2 e 3 dovremmo avere k uguale a 1 per tutte le velocità il che chiaramente è un assurdo per l'ipotesi da cui siamo partiti. Quindi lo tempo osservato da questo osservatore sarà diverso da 2. Ok? Quanto diverso dipenderà dal fattore k? Immaginiamo per esempio che k sia pari a un fattore 1 mezzo Quindi immaginiamo che k sia un fattore 1 mezzo Ok? Per esempio Allora il tempo sarà 1 mezzo più 2 cioè scusatemi 5 mezzi cioè 2,5 cioè 2 ore e mezza Quindi se il fattore moltiplicativo il fattore k fosse un mezzo a seconda della velocità a cui si muovono i due osservatori otteniamo che il tempo passato tra questo evento e questo evento non è di 2 ore come ci saremmo aspettati in un ambito newtoniano ma è di 2 ore e mezza. La cosa importante da questo esempio e dall'uso soltanto dei fattori k la cosa importante è che abbiamo appena dedotto che il tempo per l'osservatore 1 non coincide con la sincronizzazione dei tempi degli osservatori 2 e 3 che ci saremmo aspettati. Quindi in qualche modo abbiamo già una prima conferma che i tempi misurati da osservatori iniziali in moto uno rispetto all'altro scorrono diversamente. L'unico modo per che ci sia una congruenza dei tempi è avere un fattore k uguale a 1 e un fattore k uguale a 1 vorrebbe dire che un oggetto che si sta allontanando riceve lampi di luce a intervalli t per l'osservatore 1 allo stesso intervallo di tempo t. Ma questo è, ripeto, impossibile. O meglio, l'unico modo affinché questo sia possibile è che questi raggi di luce vadano a una velocità infinita cioè siano orizzontali. Allora, effettivamente, in quel caso qualunque sia l'inclinazione della retta che rappresenta l'osservatore 3 questo fattore k è uguale a 1 altrimenti è sicuramente maggiore di 1. Bene. Arrivati a questo punto possiamo andare ad analizzare un po' meglio quanto vale k in funzione di v e ottenere il primo grande risultato che vedremo del k-calculus cioè riotteniamo la dilatazione dei tempi già ottenuta per via euristica. Allora, immaginiamo l'osservatore 1 e immaginiamoci questo semplice esperimento. Immaginiamo che l'osservatore 1 a un certo istante t1 faccia partire un raggio luminoso che a un certo punto del suo viaggio si riflette e torna indietro. e quindi questi sono i tempi da cui il raggio luminoso è partito e il tempo in cui è tornato indietro essendo stato riflesso in un certo evento. Ok? Immaginiamo che quindi per il principio di velocità della luce l'osservatore 1 questi due raggi luminosi li vede andare a velocità costante. e immaginiamo di metterci in una particolare scelta delle unità di misura in cui la luce va a 1 come dimensione. Per esempio, posso fare un secondo luce al secondo quindi anziché misurare la luce in metri che allora sarebbe 3 per 10 alla 8 metri al secondo misuro lo spazio in secondi luce lo spazio impiegato dalla luce è il percorso della luce in un secondo allora è chiaro che per definizione la luce avrà una misura pari a 1 secondo luce al secondo ok? quindi l'inclinazione di queste rette per me è sempre a 45 gradi proprio perché sono in un sistema di unità di misura particolare ok? e vedremo che sarà molto comodo. bene, cosa può dire l'osservatore 1 di questo evento in cui il raggio di luce è rimbalzato? beh, intanto il tempo a cui questo evento avviene questo evento avviene a un tempo che è la via di mezzo il punto medio tra il tempo T1 e il tempo T2 perché essendo la luce all'andata e al ritorno per l'osservatore 1 si muove alla stessa velocità è chiaro che questo evento qua sarà avvenuto a un tempo che è esattamente la via di mezzo quindi il tempo di questo evento è T1 più T2 mezzi e la distanza la distanza a cui avviene beh, l'osservatore potrà dire la luce viaggia a velocità 1 e quindi metà di questo intervallo che è il tempo che impiega la luce per arrivare all'evento moltiplicata per 1 mi dà lo spazio e quindi lo spazio quindi la distanza chiamiamo distanza sarà semplicemente T2 meno T1 mezzi se volete T2 meno T1 è la distanza che la luce percorrerebbe diciamo nel doppio del tempo quindi facendo T2 meno T1 mezzi otteniamo la distanza che la luce impiega per fare metà del viaggio ok? quindi con questa scelta e funziona solo con questa scelta questo è il tempo che l'osservatore 1 può assegnare a questo particolare evento di rimbalzo e questa è la sua distanza ora immaginiamo quindi che ci sia un osservatore 2 che quando i due osservatori sono coincidenti entrambi sincronizzano gli orologi quindi questo è l'origine del tempo per tutte e due quindi questo è l'osservatore 2 e che abbiamo in qualche modo indicato in questo in questo modo cioè l'osservatore 2 passa esattamente per questo evento la linea di universo dell'osservatore 2 che cosa ci dice il kcalcus? beh vedete che la distanza temporale tra questi due eventi cioè tra l'origine e l'evento di rimbalzo per l'osservatore 2 sarà kt1 perché lui si muove con una certa velocità v ci sarà un fattore k che adesso andremo a determinare e quindi questo evento avrà a un tempo pari a kt1 per quanto abbiamo visto prima vi ricordate? quindi kt è k il fattore di conversione dei tempi tra raggi luminosi emessi dall'osservatore 1 e raggi luminosi ricevuti dall'osservatore 2 quindi immaginiamo un primo raggio luminoso inviato nel momento in cui sono insieme il secondo raggio luminoso in questo momento l'osservatore 2 li riceve a un intervallo di distanza kt1 ora immaginiamo che l'osservatore 2 invii due raggi luminosi verso l'osservatore 1 il primo quando si incontrano qua nell'origine e il secondo nel momento del rimbalzo chiaramente l'osservatore 2 riceverà i due segnali luminosi a una distanza temporale pari a k volte la distanza temporale a cui sono stati emessi dall'osservatore 2 e k è lo stesso perché se 2 si sta allontanando da 1 1 si sta allontanando da 2 con la stessa velocità e abbiamo visto che k dipende solo da v cosa possiamo allora dire? possiamo dire da tutto questo che t2 è in realtà k volte kt1 quindi k quadro t1 quindi l'osservatore 1 vede questo evento a un tempo pari a t1 più k quadro t1 mezzi e l'osservatore 2 scusatemi e sempre l'osservatore 1 vede la distanza pari a k quadro t1 meno t1 mezzi cosa può dire l'osservatore 1? beh che nel tempo dato da questa relazione l'osservatore 2 ha percorso questa distanza e il rapporto tra distanza e tempo è la velocità quindi la velocità con cui l'osservatore 2 viene visto muoversi dall'osservatore 1 sarà pari a distanza fratto tempo e quindi sarà pari a k quadro meno 1 mezzi che moltiplica t1 raccogliamo un t1 fratto k quadro più 1 mezzi che moltiplica t1 e ho raccolto anche qua un t1 e ho invertito i fattori nella somma gli addendi notate che t1 e t1 si semplifica quindi adesso da questa abbiamo la possibilità di trovare k quadro e quindi anche k notate che anche 2 e 2 si semplifica e quindi abbiamo la relazione v uguale k quadro meno 1 fratto k quadro più 1 adesso si tratta solo di invertire questa relazione troveremo k in funzione di v quindi otterremo v k quadro più v uguale k quadro meno 1 porto il k quadro a sinistra e il v a destra raccolgo un k quadro che moltiplica v meno 1 uguale meno v meno 1 cambio segno k quadro che moltiplica 1 meno v uguale 1 più v divido k quadro uguale 1 più v fratto 1 meno v e prendo la radice chiaramente scelgo la radice positiva perché i tempi scorrono nella stessa direzione quindi è chiaro che l'intervallo di tempo per esempio qua k è un intervallo positivo se i tempi scorrono positivamente nella stessa direzione per 1 e 2 quindi k deve essere la radice positiva di questa equazione abbiamo trovato k in funzione di v notiamo due cose la prima se v è uguale a 0 k è uguale a 1 e anzi è un se soltanto se e quindi il discorso che si faceva prima vi ricordate in questa specie di paradosso dei gemelli l'unica possibilità che questo orologio veda due ore come la somma delle due ore viste dagli altri due orologi in movimento è che k sia uguale a 1 ma questo è impossibile dovrebbero essere a velocità 0 la seconda cosa che notiamo è che v deve essere perché tutto abbia senso v deve essere minore di 1 quindi abbiamo un limite riscopriamo di nuovo in un'altra forma il limite sulle velocità altrimenti chiaramente tutta questa costruzione non funziona perfetto a questo punto e finiamo la lezione che è già di mezz'ora mi scuso pensavo di farla più breve a questo punto possiamo vedere il fenomeno della dilatazione temporale perché vedete che quando per l'osservatore 1 è passato questo intervallo di tempo e questo intervallo di tempo ricordatevi è questo per l'osservatore 2 è passato kt1 ok quindi il rapporto tra questi due intervalli di tempo quindi il rapporto tra i tempi osservati da 1 e 2 per l'evento di rimbalzo chiamo evento di rimbalzo questo evento qua ok il rapporto di questi tempi saranno questo tempo che è t1 che moltiplica 1 più k quadro mezzi diviso kt1 ok e t1 e t1 si semplifica e adesso possiamo calcolare questo rapporto tra i tempi fratto 2k ma ma abbiamo k che è questo qui e quindi abbiamo 1 più 1 più v fratto 1 meno v diviso 2 volte la radice 1 più v fratto 1 meno v adesso solo questioni di passaggi algebrici facciamo il minimo comune multiplo numeratore viene 1 meno v più 1 più v il v va via diventa 2 fratto sotto diventa 2 ho portato l'1 meno v che è qua sotto al denominatore radice 1 più v fratto 1 meno v notate che il 2 2 si semplifica e quindi ottengo 1 fratto portiamo questo 1 meno v che tanto è positivo sotto il simbolo di radice e quindi otteniamo 1 meno v al quadrato che moltiplica 1 più v fratto 1 meno v notate che 1 meno v e 1 meno v al quadrato si semplificano abbiamo quasi finito 1 meno v che moltiplica 1 più v ma questo è 1 fratto la radice di 1 meno v quadro questo è il fattore di dilatazione temporale che abbiamo già trovato lo abbiamo già visto quando l'abbiamo visto noi era 1 fratto la radice di 1 meno v fratto c al quadrato ok ma nel nostro caso c è uguale a 1 abbiamo scelto questo particolare sistema di unità di misura e quindi otteniamo esattamente questo fattore vi ricordo che cos'è questo fattore è il rapporto tra il tempo misurato dall'osservatore 1 e il tempo misurato dall'osservatore 2 per lo stesso evento quindi quando per l'osservatore 1 passa un certo intervallo di tempo per l'osservatore 2 ne passa un 1 diverso e questa è la spiegazione anche del paradosso visto all'inizio quando per l'osservatore 2 passa un certo intervallo di tempo per l'osservatore 1 ne passa uno diverso e quando per l'osservatore 3 passa un certo intervallo di tempo di nuovo un'ora per l'osservatore 1 ne passa uno diverso e quindi questo spiega il perché tra i tre osservatori non c'è una concordanza i tempi scorrono diversamente ok per i vari osservatori quindi abbiamo ritrovato il fattore di dilatazione temporale bene mi fermo qua la prossima volta riprendiamo il tutto da questa relazione quindi ripeto abbiamo trovato che quando ho due osservatori inerziali in moto rispetto a uno rispetto all'altro a velocità v c'è un fattore k che è un fattore tra i tempi di emissioni dei segnali luminosi dal primo osservatore e i tempi ricevuti degli stessi segnali luminosi dal secondo osservatore vedremo come questo è legato a una sorta di effetto doppler ma la cosa importante è che da questa relazione abbiamo ottenuto la dilatazione temporale e la prossima volta vedremo troveremo anche gli altri effetti che abbiamo già studiato il grossissimo vantaggio del k calculus che ci permetterà di trovare anche due ulteriori e sono gli ultimi aspetti della cinematica relativistica due ulteriori risultati che sono la composizione delle velocità e le trasformazioni le cosiddette trasformazioni di Lorenz credo che se ne possa fare a meno cioè io sono della scuola che pensa che non sia necessario introdurre le trasformazioni di Lorenz in una introduzione alla relatività per una quinta superiore ma siccome col k calcolo sono molto molto semplici da ottenere sono quasi gratis perché no le vedremo ma poi non le utilizzeremo sono invece le relazioni che vengono usate tipicamente nei libri scolastici che offuscono molto quella che è la natura geometrica della relatività come vedete abbiamo trovato una serie di risultati certo per via algebrica ma ragionando su oggetti geometrici eventi e linee temporali di osservatori inerziali e linee luce queste si chiamano appunto linee luce perché sono raggi luminosi va bene per stasera direi che abbiamo messo molta carne al fuoco abbiamo fatto una brevissima e semplice introduzione al k calcolo di Bondi abbiamo già ottenuto un primo risultato importante che avevamo già visto per via euristica e la prossima volta andremo ancora più nel dettaglio come sempre spero che stiate tutti e tutte bene per ora vi saluto vi auguro una buona domenica e luna e quindi spero che non siate davanti a uno schermo ma stiate dormendo arrivederci